Chiedo il commissariamento del sindaco, chiedo che il sistema Siracusa dunque venga totalmente raso al suolo, restituiamo Siracusa ai cittadini, torniamo al voto, ricostruiamo una Siracusa che merita di stare sui giornali per le qualità che ha e non certo perché è la città più indagata d'Italia. L'incontro con la Commissione è durato più di due ore e mezza, è stato secondo me importante, o, contrariamente al sindaco, ho portato degli allegati, della documentazione che ha senza nessun dubbio provato come stanno realmente le situazioni a Siracusa e perché si cerca così tanto, si ci scomoda così tanto a cercare di screditarmi e di infangarmi, solo perché la Princiotta è un consigliere scomodo che per la prima volta nella storia di Siracusa ha avuto il coraggio di scoperchiare i vasi di Pandora, di aprire gli armadi e tirare fuori gli scheletri dei consiglieri comunali, dei dirigenti, del sindaco, dei funzionari, tutti con interessi personali ed economici sulla cosa pubblica, tranne la sottoscritta, perché oggi non c'è stata una sola persona, neanche il sindaco, che lo dice come pettegolezzo, ma che è capace di affrontarmi, che mi può affrontare in un dibattito pubblico e dirmi che io ho interessi sulla cosa pubblica e provarlo, perché non è così. Una presunta macchina del fango con il coinvolgimento di collaboratori di giustizia? Di un collaboratore di giustizia che gli italiani pagano e che fa il pupo del grande puparo Garozzo e che poi dichiara di essere aizzato e di essere contattato dal sindaco personalmente a denigrare la sottoscritta. Sono dichiarazioni già in procura? La procura, il Rosario Piccione, per le sue dichiarazioni, la procura ha fatto le indagini, non trovando riscontro lo ha iscritto per calunnia nei miei confronti. E se non io chi? Lei conosce qualcuno a Siracusa, qualche consigliere che ha avuto il coraggio, la faccia di fare quello che ho fatto io? Io sono il nemico giurato. Chi? Se non la princiotta chi? Mi ha sfidato pubblicamente il sindaco, 15 giorni, vediamo chi ha meno reati, chi ha meno contestazioni. No, il sindaco è diverso. Siccome il sindaco si vanta e dice sempre che non ha visi di garanzia, soprattutto riferibili alle mie denunce, siccome io sono stanca di ascoltare fesserie e so di cosa sto parlando, perché non tira fuori il suo 335 e confessa? Che lo faccia lui, non me lo faccia fare a me. E poi vediamo di quanti reati lui è accusato. Grazie a tutti.